eccoci allora grazie ancora a tutti per aver partecipato aver accettato l'invito a partecipare a questa lezione e come sapete lo ripeto tutte le lezioni vengono registrate poi saranno disponibili sul sito di transformitalia io lascio subito la parola a Piero di Vilacqua che presenterà la lezione di oggi e presenterà anche ovviamente il relatore che Paolo Maddalena che conosciamo conoscete tutti quindi sarà abbastanza semplice anche se l'elenco di cose fatte da Paolo Maddalena è talmente ampio che ci vorrebbe solo un'ora per raccontarle tutte ma anche perché c'è la bellezza di 87 anni quindi in 87 anni se non si fanno varie cose quindi do a Piero la parola e poi sarà Piero a gestire la lezione vi ricordo ancora per favore di controllare i vostri microfoni in modo da non interferire mentre qualcuno sta parlando ci sono alcuni che hanno il microfono acceso vi chiedo di spegnere grazie ancora a tutte e a tutti e a te Piero grazie Roberto grazie soprattutto un grazie affettuoso a Paolo Maddalena che ha accettato con entusiasmo di tenere questa sera la lezione dal titolo che cosa sono i beni comuni come e come difenderli allora davvero pochissime parole perché come diceva Roberto sulla biografia di Maddalena ci sarebbe da dire tantissimo ricordo essenzialmente che è entrato abbastanza giovane in magistratura nella corte dei conti e per poi passare nel 2000 nel 2002 alla corte costituzionale dove è rimasto fino alla fine diciamo della sua carriera di magistrato finendo questa questa carriera come vice presidente onorario della della corte della corte costituzionale allora questa lunga lunga attività di magistrato di giurista ha dato luogo a una serie notevole di pubblicazione io ricordo soprattutto per quello che interessa le nostre tematiche il volume responsabilità amministrativa danno pubblico e tutela dell'ambiente perché in questa fase Maddalena si è occupato della responsabilità amministrativa e del diritto ambientale naturalmente uno si tratta di temi e già allora di di grande innovazione rispetto all'impostazione tradizionale del diritto italiano e poi un altro volume che è del 1990 perché il primo che ho che ho citato è addirittura dell'87 e il volume del del 1990 è danno pubblico ambientale dopo che ha lasciato la corte costituzionale si è occupato dai diciamo dei problemi economici e finanziari del nostro paese sotto il profilo del del danno del danno ambientale e della come dire della privatizzazione dei beni comuni ricordo di questo periodo il territorio bene comune degli italiani Donzelli 2014 poi gli inganni della finanza Donzelli 2016 la rivoluzione costituzionale alla riconquista della proprietà pubblica entriamo subito di arcos 2020 nell'argomento su cui Paolo Maddalena ci tratterrà questa sera come vedete da queste breve notazioni appare il profilo di un magistrato di grandissima preparazione tecnica e teorica ma soprattutto civilmente schierato impegnato figure sempre più rare purtroppo nel nel nostro panorama nel nostro panorama pubblico e per questo sempre più preziosa io ecco non non perderei molto tempo perché poi Roberto Morea ci abbandonerà quindi siamo un po' privi di assistenza e immagino che dopo la relazione di Paolo ci saranno degli interventi delle domande e quindi dobbiamo avere il tempo per poter soddisfare tutte le curiosità e le esigenze di chi ci ascolta Paolo ancora grazie a te la parola grazie carissimo Piero io davvero ti ringrazio di cuore perché questi te innanzitutto mi concedi un grande onore a parlare in questa sede dove so che ci sono persone di altissimo profilo ma poi tu mi prendi su un argomento sul al quale ho dedicato la vita non proprio i beni comuni ma il problema di fondo della tutela giuridica da parte dei singoli soggetti questo è molto importante dei beni collettivi e beni di tutti quando cominciai a occuparmi dell'ambiente i miei primi scritti sull'ambiente risalgono agli anni settanta fine sessanta inizio anno settanta quindi ero tra i primi che si occupavano di questi il problema di fondo era che si riconosceva soltanto eh l'oggetto merce e il diritto di proprietà su su un singolo soggetto per cui quando cominciai a parlare di diritto all'ambiente insieme ad altri ad altri colleghi postiglione eh Amendola altri ci riunivamo alla Cassazione gruppo ecologia e territorio e ci veniva spesso opposto che l'ambiente non era oggetto di diritto perché eh non poteva essere oggetto di un diritto soggettivo eh non era allenabile non entrava quindi il come dire ho vissuto in prima persona con amici pochi non molti eh questo cambiamento epocale perché la questione ambientale e poi è venuta la globalizzazione dei mercati sono due fenomeni straordinari che eh alla fine che hanno colpito l'umanità dopo anni e anni nei quali questi problemi non esistevano perché la capacità offensiva dell'uomo era comunque limitata e il problema si pone oggi anche in relazione alla guerra perché la potenza distruttiva dell'uomo è arrivata a un punto tale che effettivamente è impossibile risolvere i problemi con la forza perché eh si arriva al dilemma o guerra o distruzione totale e quindi eh come dire siamo in un'epoca in cui ci sono grandi fenomeni nuovi io ho cercato di di affrontare innanzitutto il tema dell'ambiente poi mi sono accorto che a un certo punto non si poteva continuare a parlare solo di ambiente ma bisognava stanare i nemici dell'ambiente e e quindi stabilire come si potevano combattere coloro che i beni comuni proprio non li conoscevano quando si è cominciato a parlare di beni comuni io sono stato molto lieto se non che ho visto purtroppo ho constatato che il livello generale degli studi giuridici sta attraversando un periodo di grande depressione come dire come come abbiamo un livello di vita che è scemato e come dire anche il mondo accademico il mondo degli intellettuali tranne le dovute eccezioni che meno male grazie a Dio ci sono comunque vaga un po' senza una buona direzione credo che l'epoca attuale ci imponga innanzitutto valutazione dei beni che ci interessano nell'ambito del contesto nel quale viviamo se noi prescindiamo dal contesto e pensiamo che un'idea che ci passa la mattina nella mente sia quella risolutiva di tutto il problema secondo me facciamo un lavoro a vuoto il concetto di beni comuni mi colpì molto perché per me comune è sinonimo di collettivo ed è sinonimo di proprietà collettiva e quindi vedevo in questo termine qualcosa che riportava in auge quella che era che è stato sempre il mio miraggio cioè quello della possibilità di ottenere giustizia da parte di singoli per il bene di tutti e per la salute la la salvezza dei beni dei beni comuni come principalmente principalmente l'ambiente oggi mi hai costretto mi hai indicato a riflettere un attimo di nuovo su questo tema dei beni comuni i beni comuni mi disse una volta l'amico che forse conosci salvatore settis cosa sono i beni comuni mi rispose lui un concetto inafferrabile un concetto inafferrabile del resto il titolo che mi ha dato che mi ha dato cosa sono i beni comuni significa che non c'è chiarezza di idee su 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 questi che sono su questa dizione beni comuni io penso che sia interessante a questo punto fa riferimento al libro innanzitutto al libro dell'ostrom dell'elino rostrom che fu pubblicato nel 1888 e che fece molto scalpore ma che comunque secondo secondo me ha tracciato delle idee abbastanza valide sulle quali sulle fermarci altro punto sul quale si è discusso si è parlato dell'espressione beni comuni che è la prima cosa che ho voluto fare andato a vedere chi per prima aveva usato questa dizione ho trovato che la dizione viene innanzitutto dei commons della governance dei commons dell'elino rostrom e poi la famosa commissione rodotà sui beni comuni la quale si è diffusa molto ma credo non abbia assolutamente chiarito le idee questa sera io vorrei chiarire le idee e portarle soprattutto nell'ambito costituzionale perché nella mia vita io ho avuto il privilegio di studiare per tutto innanzitutto il diritto romano sono stato assistente straordinario volontario ordinario libero docente istituzioni di diritto romano e la mia carriera doveva essere quello di fare lo studioso del diritto romano poi cambiai passai alla corte alla corte come tu hai ricordato alla corte dei conti e poi alla corte costituzionale ma l'esperienza romanistica mi è stato di immenso aiuto quando ho dovuto affrontare questi temi perché per i romani tutto era pubblico senatus populusco romanus la repubblica ma comunque tutti i beni erano del populus i singoli avevano dei poteri molto limitati il mancipium il liurecessio l'imbonisabere varie forme di proprietà diciamo noi proprietà ma loro non avevano minimamente l'idea della proprietà privata è il dominium ex perquilizium che è quello che più si avvicina alla nostra proprietà privata nasce agli albori del primo secolo avanti cristo quando Roma è nata nell'ottavo secolo avanti cristo quindi mi è stato molto utile questa formazione romanistica per poter capire a fondo che cos'è la costituzione io sono innamorato della costituzione ritengo che nella costituzione c'è la soluzione di tutti i problemi e non capisco come in questo vagare nel vuoto tra discussioni soprattutto questo viene in politica veramente è per me un fatto così angoscioso vedere che nessun politico tranne il presidente della repubblica di tanto in tanto cita la costituzione come se non esistesse ma la costituzione è al primo posto nella graduatoria delle fonti del diritto ed è a questa che noi dobbiamo dobbiamo far riferimento e poi voglio ricordare la disposizione diciottesima delle norme transitorie finali della costituzione dice che la costituzione deve essere fedelmente osservata come legge fondamentale dello stato da tutti i cittadini e dai e dagli organi e dagli organi dello stato quindi io credo che sia saggio da un punto di vista giuridico affrontare tutti i temi attraverso guardando alla costituzione quindi anche questa sera io vorrei fare un escursus che tiene conto della costituzione perché la costituzione non è stata ancora scoperta non è stata letta non si capisce sono usciti fuori i beni comuni senza leggere la costituzione facendo un riferimento ai diritti fondamentali un vago riferimento dice i beni comuni sono i beni che riguardano l'esercizio dei diritti fondamentali per la presente e per la futura generazione mi pare un po' poco anche perché questo lo si dice poi nella premessa ma non lo si dice nel nel dettato legislativo nello schema legislativo comunque voglio dire che quello che mi sembra importante è parlare della costituzione avendo come punto di riferimento per il nostro argomento è effettivamente questo bel libro dell'elino rostrom la quale come gli americani scrive con facendo riferimento a molti casi particolari molto molto disciplinata molto molto attenta e alla fine arriva alla conclusione che i beni comuni non possono essere gestiti né dallo stato è stato ella intende la burocrazia praticamente né dal mercato e questo mi fa un immenso piacere questo secondo aspetto e vedremo poi come invece la costituzione apre tutte le sue porte a questo a questo riguardo e arriva a una conclusione una una definizione che a me sembra estremamente valida i beni comuni sono i beni collettivi che grande soddisfazione io che ho sempre anelato anche in quei primi due libri danno pubblico ambientale a parlare di un bene che appartenesse a tutti beni collettivi sono beni collettivi gestiti da comunità locali e quindi non stato non ma gestione da parte delle comunità locali nel bene collettivo c'è un riferimento indiretto all'appartenenza collettiva del bene però questo aspetto non è affrontato dalla Elinor Ostrom mi piace molto un altro elemento che aggiunge e chiudo così il riferimento alla Ostrom per dare proprio l'essenziale del suo pensiero lei dice che tra i beni comuni si distinguono i beni comuni naturali che sono sistemi di sostegno alla vita santo cielo ecco questo alla mia età io posso dire che io riconosco un solo grandissimo dopo dio naturalmente un solo grandissimo valore la vita non c'è altro valore se non la vita il valore supremo è la vita e mi fa molto piacere che la Elinor Ostrom come dire che io abbia una certa empatia non la conosco so solo che è nata tre anni prima di me che purtroppo sei andata a Los Angeles e che è andata via nel 2012 comunque mi piace tener presente questa ossatura di idee un singolare premio Nobel vero? Sì no premio Nobel e credo proprio perché nel periodo in cui ci furono le rivoluzioni in Colombia e in Bolivia a proposito della privatizzazione dell'acqua il il suo libro apparve come come un antidoto rispetto rispetto al prevalere di stiamo parlando di un argomento estremamente complesso e vario e spero di poter rendere le idee nella loro profondità comunque tengo presente che ci sono dei alcuni concetti che è numero soltanto e che sono della Ostrom e che voglio andare a verificare in Costituzione per far notare come la Costituzione abbia le braccia aperte a ricevere i beni comuni come li intende la Ostrom. La Ostrom parla di comunità, dice locale, insomma possiamo ben pensare a vari tipi di località comunque comunità, è importante il concetto di comunità, la vita in comune, avere in comune dei beni, vivere in comune, sappiamo bene quanto sia importante questa comunità, poi proprietà collettiva, i beni comuni sono beni collettivi, proprietà collettiva, gestione da parte della comunità, terzo elemento, partecipazione di tutti, sottolinea la Ostrom e poi sistemi di sostegno per quanto riguarda i beni naturali, sì che noi abbiamo riguardo all'aspetto individuale, all'aspetto collettivo, all'aspetto antropologico e all'aspetto diciamo ecologico, meglio preferisco io biologico, per inquadrare bene questo tema. E allora direi che a questo punto è opportuno vedere come questi concetti sono trattati in Costituzione. Ma prima di arrivare a questo io vorrei far cenno a un altro modo di affrontare i beni comuni perché anche questo costituisce un ostacolo che noi dobbiamo superare prima di affrontare il tema nella sua entità e vorrei dire anche nella sua profondità per capire bene le idee. Si sono occupati di questo la Commissione Rodotà. La Commissione Rodotà ha un'origine strana. Essa è convocata dal Ministro Mastella su richiesta di Sabino Cassiese, Reviglio e soprattutto Tremonti perché loro vogliono una modifica, questi professori desiderano una modifica della disciplina dei beni comuni nel Codice Civile in modo da renderli passibili del loro inserimento nel documento contabile internazionale che si allontana dai nostri documenti di contabilità perché non fa più riferimento alla finanza, non fa più riferimento al patrimonio, ma fa riferimento alla economia, cioè a qualcosa di dinamico, all'efficienza, per cui effettivamente anche se non è detto molto chiaramente si vuole una classificazione che impedisce che i beni comuni, cioè i beni pubblici in questa visione di questi grandi professori, i beni comuni devono essere qualcosa che deve esistere ma comunque non deve essere ingessata nel senso di essere inalienabili, inuso capibile, si deve anche ammettere la loro vendita secondo le esigenze e quindi la Commissione Rodotà come dire sconta questo principio contabilistico iniziale e esce fuori con una definizione dei beni comuni, beni comuni sono quelli che sono idonei al soddisfacimento di diritti fondamentali, questa idea di Rodotà, però Rodotà non interviene nelle sedute di questa Commissione, si limita a dirigere e a prendere atto di quello che i vari componenti della Commissione vanno dicendo. il concetto di beni comuni, il concetto cioè l'attività di, voglio dire meglio, l'attività di questa Commissione ha una double fassa, c'è un'esposizione dei beni comuni nella relazione e nella relazione ci sono tocchi di elemento comunitario effettivamente, si fa riferimento alla proprietà pubblica demaniale dell'articolo 42 della Costituzione. Poi nello schema del disegno di legge si dimentica tutto quello che si è detto nella relazione e si fa un disegno di legge in cui si fa questa classificazione dei beni pubblici. I beni pubblici si distinguono innanzitutto in tre categorie. Beni comuni che sarebbero quelli che hanno una valenza di soddisfacimento della presente e futura generazione sotto il profilo, sotto il profilo dei diritti fondamentali. Beni comuni, beni pubblici e beni privati. Poi si dice ma i beni pubblici, i beni pubblici devono essere, possono essere a necessaria appartenenza pubblica. Quindi beni a necessaria appartenenza pubblica. Beni privati, beni voglio dire sociali e beni fruttiferi. E i beni demaniali? Niente, il demanio è soppresso. Si sopprime il demanio. A me questo è sembrato un colpo mortale. Avevo studiato con molta simpatia che nel 1231 il grande imperatore Federico II, quando aveva visto che i privati si erano impossessati con il loro dominio mutile dell'intero dominio meminense e avevano occupato strade, ponti, gallerie, palazzi importanti, eccetera. Lui emanò il libero e costituzione in cui si inventò il demanium, per cui fece un elenco di beni a tassatività dei beni demaniali, che essendo di preeminente interesse pubblico venivano sottratti alla proprietà privata. Quello che mi colpisce è che questa elencazione dei beni comuni poi si risolve sotto il profilo del diritto privato. Non tocca più il diritto pubblico. I beni sono in diritto privato, i beni comuni sono proprietà privata o di singoli o di pubbliche amministrazioni. Se appartengono a pubbliche amministrazioni sono inallenabili. Cioè l'inalenabilità non deriva più da un disposto costituzionale dall'articolo 42 della Costituzione, ma deriva da una disposizione. Sto facendo un altro lavoro, dicendo due cose. Che c'è? Ho sentito una interruzione. Ma deriva da una disposizione di una legge ordinaria e devo dire che ho molto discusso con Ugo Mattei, Alberto Lucarelli eccetera, ma le cose sono rimaste così. E allora io, come dire, resto dell'avviso che i beni comuni somigliano molto ai beni del demani. Che il bene comune ha senso se è un bene sottratto alla commerciabilità. Mi pare essenziale tener presente e quindi adesso comincio a far scorrere il mio ragionamento sul binario che mi aveva offerto la Ostrom. Dobbiamo innanzitutto, parlando di beni comuni, è uno che ha studiato tanto sui beni comuni che mi dice dobbiamo partire dalla comunità. Io la seguo umilmente e dico partiamo dalla comunità. I beni comuni presuppongono una comunità di persone, non presuppone un soggetto singolo, né presuppone la proprietà privata, presuppone una comunità. Com'è fatta la comunità? La comunità è costituita dal popolo, dal territorio e dall'ordinamento giuridico, si dice la sovranità. Importante nell'ambito della comunità, come sottolinea poi lo stesso Rodotà, è il rapporto tra popolo e territorio. Il territorio rappresenta l'insieme dei beni che servono per la vita di un popolo. Ecco perché c'è la lotta sui territori. Con tutti i beni che adesso poi sono diventati molto anche virtuali, eccetera, con tutti i suoi beni il territorio rappresenta la ricchezza di cui dispone il popolo. E questa ricchezza deve essere organizzata nel miglior modo possibile. E allora ha ragione l'aostromo quando dice né stato burocratico né mercato. Perché questa ricchezza va, e qui viene ben in asse l'insegnamento di Gaio, va divisa con, deve essere sottoposta a una somma di visio. Cioè dire la ricchezza del territorio, che è nel territorio, cioè la ricchezza del popolo, perché la ricchezza non nasce dei singoli, nasce di tutti la ricchezza. Lo ha dimostrato il Nibur nel 1811, insomma, qui poi c'è stata tutta la cultura borghese per cui originaria sarebbe la proprietà privata. Sbagliato, originario è sempre la proprietà pubblica, perché è sempre un gruppo di persone che si installa su un certo territorio. Comunque, vediamo bene, nell'ambito della comunità esiste questa ricchezza nazionale, chiamiamola così, per intenderci, la ricchezza nazionale è divisa tra la proprietà pubblica ed emaniale, la proprietà pubblica ed emaniale e la proprietà commerciabile e i beni commerciabili. Dice Gaio, rest pubbliche sunt que nullius sunt in bonus sed universitatis. I beni pubblici non sono quelli che appartengono ai singoli e qui da nullius hanno detto che esiste nel resto nullius, leggetto, ma non sono nel patrimonio di alcuno, ma nel patrimonio di tutti. Quindi, secondo secolo avanti Cristo, abbiamo chiara l'idea della comunità, della comunità. Se usciamo fuori dalla comunità non riusciamo a risolvere niente. Parliamo di beni enormi, parliamo dell'ambiente, parliamo del mondo, parliamo dell'universo e non possiamo tirarci nell'ambito di un computer, insomma, per quello che c'è davanti. c'è la summa diviso. Rest pubbliche sunt que nullius sunt in bonus sed universitatis. Private, rest private sunt singularum hominum. Que singularum hominum sunt. Quindi sono dei singoli. E noi abbiamo un riscontro elegantissimo, preciso, nell'articolo 42 della Costituzione che ci deve colpire e deve restare davanti a noi come una luce indelebile. Secca, articolo 42, prima comma, prima linea, la proprietà è pubblica o disgiuntivo, privata. Esistono in Costituzioni due tipi di proprietà, o la proprietà pubblica o la proprietà privata. Santo e Dio, i beni comuni per me vanno nella proprietà pubblica. Non c'è bisogno di lambiccarsi il cervello e di andare nescio quid nugarum cogitanze, come diceva Cicerone, passaggiando per la via sacra. Andiamo sul terreno sicuro. I beni o sono pubblici o sono privati. E poi c'è anche una precisazione ulteriore, perché l'articolo 42 della Costituzione continua nello stesso rivo e dice i beni economici, vuol dire i beni commerciabili, appartengono allo Stato, a enti e a privati. Ecco la grande distinzione, come diceva Gaio, tra i beni di tutti, i beni temaniali e i beni privati. È il primo a dire con chiarezza che cosa fosse sta proprietà pubblica che usciva per la prima volta, perché nello statuto Albertino non c'era la proprietà pubblica, c'era la proprietà privata dell'ente pubblico. Quindi si parlava di un bene pubblico non in quanto oggetto di proprietà pubblica, ma in quanto bene privato, oggetto di proprietà privata di un ente pubblico. Ecco cos'era il bene pubblico. Adesso invece noi abbiamo un'altra grande apertura, perché a questo non ci hanno pensato i nostri giuristi, nel passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana c'è stato un cambio di Stato. Nello Statuto Albertino lo Stato era una persona giuridica pubblica, una persona, una, un soggetto singolo. E allora è chiaro che il bene appartiene al singolo a titolo di proprietà privata e diventa pubblica perché appartiene a un ente pubblico. Ma quando siamo passati nella Costituzione Repubblicana, e questo vorrei che fosse ben chiaro, noi siamo passati da un soggetto singolo a un soggetto plurimo, la Repubblica, il popolo. Allora anche la forma di appartenenza non può essere singolo. Come noi diciamo, i boschi dei boschi di una magnifica regola sono un bene collettivo dei discendenti di quella di quella regola, nell'ambito quella magnifica regola, o di un uso civico, o di una comunanza emiliana, via dicendo, ne abbiamo tanti di questi esempi antichi di proprietà collettiva, ma abbiamo proprietà collettive anche nel senso c'è un'associazione, abbiamo proprietà collettive eccetera, quindi insomma il concetto di collettiva singolo è molto diffuso adesso. Comunque quello che è molto importante sottolineare è che la proprietà pubblica che quando il soggetto è pubblico, il soggetto è plurimo e il tipo di proprietà non può essere il tipo di proprietà singola, la proprietà privata, ma deve essere la proprietà pubblica. E qui si vede la grandiosità dei nostri costituenti che per la prima volta hanno capito che passando da un soggetto singolo, la persona-stato, persona-stato-persona, un soggetto plurimo, stato-comunità, la repubblica, bisognava dire che ciò che appartiene a tutti, appartiene a un soggetto plurimo, deve essere qualificato come proprietà collettiva. E stavo dicendo prima, poi sono passato oltre, ma Massimo Severo Giannini, di cui ho beneficiato perché spesso ho parlato con lui, ormai passati tanti anni, ma comunque Massimo Giannini disse qui non c'è dubbio, si tratta di una proprietà collettiva de maniale. Proprietà collettiva de maniale. La proprietà pubblica è una proprietà collettiva de maniale, perché quello che è di tutti non si può dare a un singolo. Non è possibile quello che di tutti si dia a un singolo. Quello che di tutti deve restare di tutti. Quindi è una proprietà collettiva de maniale. Secondo me questo concetto di bene de maniale va molto vicino al concetto che uno può attribuire a un bene comune. Bene comune, bene di tutti, bene pubblico. Bene pubblico, ecco, non si intende più il bene della pubblica amministrazione, la quale a titolo privato può avere beni a titolo privato, ma quando parliamo del popolo, quando parliamo del popolo, noi dobbiamo parlare di una proprietà, di una proprietà pubblica. E c'è un riscontro formidabile nella Costituzione e io ammiro moltissimo la Costituzione perché è molto ben coordinata. C'è un riflesso soggettivo, articolo 2 della Costituzione. L'articolo 2 della Costituzione dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, proprietà privata, sia come sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità e esige interrogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. È un capolavoro. Il coordinamento che fu fatto da Moro funziona in modo meraviglioso. Cioè a dire noi abbiamo la proprietà pubblica che appartiene a tutti e la proprietà privata che appartiene al singolo. Ogni singolo può essere titolare di proprietà privata, dei beni che appartengono a lui, ma può essere parte proprietario pubblico di un bene pubblico totale che appartiene a tutti. Quindi proprietà collettiva, proprietà collettiva demaniale. Ora questa proprietà collettiva demaniale di tutti dà luogo a un sistema economico particolare che noi abbiamo vissuto e che ci ha portato al grande miracolo economico italiano. Ecco guardate come tutto coincide. Comunità, territorio, la ricchezza summa diviso pubblico privato. La nostra economia che ci ha portato a vincere è stata l'economia prevista dai nostri costituenti, un tipo di economia che contiene il pubblico e il privato e qui andiamo incontro e togliamo un pensiero a Elinor Ostrom, la quale diceva né pubblico né mercato, né stato né privato. Noi mettiamo insieme pubblico e privato perché secondo la teoria keynesiana la ricchezza deve essere distribuita alla base della piramide sociale, cioè fra tutti i lavoratori, in modo che i lavoratori vanno nei negozi, negoziano nelle imprese, le imprese assumono e producono e quindi c'è poi c'è un impegno totale delle energie lavorative perché il diritto al lavoro è un diritto universale ed è fondamento della Repubblica in questa visuale il sistema economico prevede che poi ci sia non solo l'intervento dei singoli nel lavoro ma anche l'intervento dei tutti con l'intervento dello Stato nell'economia ed ecco veramente realizzata la nostra Costituzione. La nostra Costituzione partendo da principi fondamentali era arrivata con Fanfani, Moro, soprattutto Moro su questo punto che si inventò le 500 lire, me lo ricordo, del tesoro, non della Banca d'Italia, del tesoro. Qui ci sono problemi immensi, si dovrebbe parlare all'infinito. Comunque l'Italia attuando la Costituzione nel primo periodo del dopoguerra, prima dell'assassinio di Moro, perché poi con l'assassinio di Moro, dopo quello di Enrico Mattei e che la dice lunga sulle nostre vicende economiche, le cose sono molto cambiate e certamente sono cambiate in peggio. Ora questo sistema economico keynesiano prevede la distribuzione della ricchezza a tutti i lavoratori in modo che i lavoratori abbiano anche una loro retribuzione che sia idonea ad assicurare che sia sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa, dice l'articolo 36, per sé e per la propria famiglia e d'altro canto tutti insieme i lavoratori, cioè lo Stato, interviene nell'economia mantenendo un equilibrio tra il pubblico e il privato che trova la sua connessione straordinaria nell'articolo 41 della Costituzione che pone limite alla proprietà privata. L'iniziativa economica privata è libera, non può sfogliersi in contrasto nell'ultima edizione con la salute e l'ambiente, la sicurezza, la libertà, la dignità umana, straordinaria. Ultimo comma di questo articolo, il terzo comma dice la legge interviene con opportuni controlli affinché l'attività economica pubblica e l'attività economica privata sia indirizzata a fini sociali. Il cerchio si chiude nella visione di un sistema economico sano, un sistema economico che pone, che si ispira al principio dell'eguaglianza economica e sociale di tutti, stabilita dall'articolo 3 fondamentale della Costituzione. Non me lo metto a recitare per guadagnare un pochino di tempo perché altrimenti il discorso si prolunga oltre i limiti. A questo punto io credo che quello che ci aveva detto Elinor Ostrom è perfettamente, ha una perfetta corrispondenza nella Costituzione. Si è parlata di comunità e la nostra Costituzione prevede uno Stato comunità. Si è parlata di proprietà collettiva e la nostra Costituzione prevede una proprietà pubblica che è stata giustamente definita proprietà collettiva dei maniani. Si prevede che la gestione sia fatta dalla parte e anche qui in Costituzione la proprietà pubblica non consente che sia gestita da altri. Qui c'è un punto essenziale che meriterebbe un discorso a sé e che riguarda adesso le concessioni bagnare, le concessioni di taxi. Se certi beni sono del popolo e non è che si possono dare in gestione a singoli privati magari di altri paesi europei con la gara europea. Deve essere gestita dal popolo perché la gestione comporta i guadagni relativi, l'organizzazione e il guadagno. E l'organizzazione e il guadagno sono l'essenza, il contenuto della proprietà pubblica. E la proprietà pubblica non può essere svuotata con la concessione della gestione. Sia ben chiaro. Qui si apre un capitolo enorme, un capitolo molto importante. Però la nostra Costituzione se fosse stata letta, seguita e capita in profondità avrebbe risolto anche il problema della gestione. Ed è altro elemento che Elinor Ostrom componeva e alla quale la Costituzione dà una risposta. Poi c'è il diritto di partecipazione. Articolo 3 della Costituzione. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e le guadagno dei cittadini impedisce il libero sfogimento della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi c'è anche l'elemento partecipativo. Credo che a questo punto abbiamo in Costituzione poi anche l'altro elemento che riguarda in particolare i beni comuni naturali. Perché l'articolo 9 della Costituzione contiene oggi non solo il bene artistici e storici e il paesaggio ma anche la biodiversità, l'ecosistema, l'ambiente e anche l'articolo 41 contiene l'ambiente come limite all'attività, all'attività dei privati. Credo che effettivamente se la nostra Elinor avesse conosciuto la Costituzione avrebbe trovata nella Costituzione tutti gli appelli necessari. Se è vero questo, se in quanto è vero questo, i beni comuni hanno, richiedono una disciplina conforme a quella che è quella dettata in Costituzione a proposito dei beni comuni, a proposito dei beni in proprietà collettiva demaniale, in proprietà collettiva e quindi io ritengo che se le nostre accademie si fossero più dedicate allo studio della Costituzione anziché lampicassi il cervello in altre direzioni, probabilmente noi potremmo dire di essere molto più avanti ed era andato tutto bene. Ma a un certo punto, come sapete, le cose sono cambiate perché contro il sistema economico produttivo di stampo keynesiano, senza idee, con un mantra, con una formula magica in cui si dice solo che privato è bello, che meno stato è più privato, che conviene che l'accentramento della ricchezza riguarda tutti, non idee sono queste. Tant'è vero che il neoliberismo è contro le idee, che ha vietato l'uso della parola ideologia. Se si dice ideologia si salta in aria, dimenticando che ideologia, come dice Zagelbeschi, è soltanto la narrazione delle idee. Quindi c'è l'oscuramento delle idee volute dalle superpotenze economiche che hanno trovato i loro servitori, i loro mansueti servitori. Primo fra tutti la scuola di Chicago, comandata da Milton Friedman, il quale insieme a un'altra professoressa, la Schwarz, scrisse alla fine degli anni Sessanta un famoso libro la storia della moneta americana dal 1867 al 1960, che non ha niente di scientifico, proprio nulla, ha solo un'enumerazione di fatti accaduti negli Stati Uniti, dal che deriva, dal che fa derivare una mutazione del concetto stesso di economia. L'economia non è più un'economia dello scambio, come si sa, come è e come sarà, ma è un'economia della concorrenza, perché alle potenze economiche che cosa conviene? Conviene alla concorrenza, perché conviene prendere quanto più è possibile, arraffare quanto più è possibile, cinicamente disinteressandosi da tutto il resto. Infatti qual è la ricetta di Milton Friedman? Liberalizzazioni, privatizzazioni e abbandono dello Stato sociale. L'applicò subito Pinochet, distruggendo i pauri cileni, gli andarono dietro Reagan e Clinton, poi la Thatcher, poi hanno fatto marcia indietro, ma noi italiani siamo stati più imbecilli del mondo, purtroppo, mi dispiace, perché io sono fortemente italiano. Cosa è successo in Italia? Due cose importanti. Innanzitutto l'erroneo ingresso nell'Europa a quelle condizioni, perché l'articolo 11 della Costituzione dice l'Italia consente a limitazioni, non accessioni, a limitazioni di sovranità, in condizioni di parità con gli altri stati, invece siamo andati in condizioni di disparità, economicamente molto più deboli. Abbiamo fatto in modo che in un mercato unico, senza tassi, eccetera, si comprassero tutto. Ed è anche strano il fatto che questa idea della svendita e della privatizzazione, della liberalizzazione sia stata attuata con una forza, con una capacità veramente incredibile. Cosa è successo? È successo che negli anni, nel 1990, il governo Ciampi Amato, o Amato Carli una volta, Ciampo Amato un'altra, hanno privatizzato tutte le imprese pubbliche italiane. Abbiamo perso tutte le imprese pubbliche, adesso sono tutte straniere. Straniere è anche la Banca d'Italia, che è diventata una banca privata. nel 1992, il 2 giugno, salì sul Panfilo Britannia, dove c'erano 100 delegati della sede londinese, Mario Draghi, il quale disse che una forte svolta politica era costituita dalle privatizzazioni. Le privatizzazioni italiane, i mercati guardavano con grande attenzione alle privatizzazioni italiane, con una cartina di tornasole della sottoposizione del nostro governo ai mercati. Cioè a dire è un fatto positivo per Draghi che il governo italiano sia soggetto ai mercati e faccia quello che dicono i mercati. Questo discorso è scritto, è pubblicato e comunque dopo 40 giorni, veramente dopo 39 giorni, l'8 agosto 1992, Giuliano non avanti privatizzò, cioè fosse sul mercato. L'INA, ricca di soldi, l'ENEL, l'INA, l'ENEL, l'ENI, ente nazionale di carburi, e l'IRI con mille aziende pubbliche e 600 mila dipendenti. E lì si iniziò una furia devastatrice di svenditi totale. Nell'IRICERA, l'ALITALIA, autostrade, fin meccanica, fin cantieri, aeroporti di Roma, era tutto gestito da noi ed è stato dato nelle mani dei privati. Il privato che gestisce, gestisce nell'interesse proprio, non nell'interesse dello Stato. E quei soldi vanno nella SPA, non vanno nel bilancio dello Stato. E se si fanno dei dividendi, i dividendi sono decisi dalla SPA, non sono decisi dallo Stato. Hanno fatto un'operazione, a mio avviso, assolutamente inconcludente. E poi ci sono state le liberalizzazioni, la liberalizzazione dell'energia elettrica col decreto Bersani. Era liberalizzato la produzione, il trasporto, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione dell'energia elettrica, poteva farlo chiunque. E lo stesso col decreto Letta del 2000. 1999 Bersani, 2000 Letta per il gas. Ecco, manco a farlo apposta, le nostre bollette. Che cosa è successo? E poi abbiamo privatizzato le ferrovie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, il nuovo Pignone, lo cito perché era tanto cara alla Pira. La Telecom, 13 milioni la Telecom, che dava ogni anno metà del suo capitale come prodotto. È finita, è finita, regalata alla Fiat. La Fiat era regalata a Colaninno, caricandolo di debiti. Colaninno l'ha regalata a Tronchetti Provera, caricandolo di debiti. Tronchetti Provera l'ha venduta alla Telecom spagnola, dove la maggior parte, la maggioranza delle azioni c'è la Viventi francese. Tutto il nostro patrimonio industriale, grande, enorme, è stato tutto dato agli stranieri, perché l'oro, mettendo sul mercato, chi ha più soldi, compra di più. Noi abbiamo debiti, 3.000 miliardi, 2.790 miliardi di debiti, che compriamo noi, svendiamo e perdiamo tutti. E il nostro destino è quello di diventare, di non essere mai più imprenditori, non avere mai profitti, ma avere soltanto un lavoruccio sottopagato, oppure un lavoro accottimo, precario o che si vuole. Ma poi non si sono vendute solo imprese pubbliche, si sono vendute una quantità enorme di ditte private. Per esempio la Ginore, la cito perché era molto amata da mia madre, la Magneti Marelli che faceva microchip necessari per le macchine elettriche, insomma una rovina totale. C'è successo questa e si va avanti. L'ultimo decreto che ha fatto Draghi è stato il decreto concorrenza che toglie ai comuni ogni municipalizzata e anche l'acqua deve essere data ai privati, in modo che i privati prendano i profitti e a noi viene dato un servizio molto scadente. Non capisco che cosa è cosa si successe. Allora ecco che concludo, mi avvio a concludere dicendo guardate da quell'analisi che ho tentato di fare, sia pur velocemente, ma tentando di andare nella profondità delle idee, riferendomi alla Elinor Ostrom e ai guai che ci sono stati fatti dei nostri concittadini, io ritengo che dobbiamo pensare a dei beni comuni secondo la Costituzione e i beni comuni secondo la Costituzione sono la stessa cosa che i beni demaniali. I beni comuni e i beni demaniali sono la stessa cosa e i beni demaniali non sono privatizzabili. Il demanio non si privatizza, non può essere messo sul mercato e se viene messo sul mercato si può ricorrere al giudice ed ecco la difesa possibile dei beni comuni. Come si difendono i beni comuni? Se in quanto sono beni demaniali, come lo devono essere? Perché che razza di bene comune? È un bene che non è in proprietà comune. Il minimo che si può dire è che il bene comune è un bene che appartiene a tutti. Del resto questo è quello che è nella coscienza comune collettiva, che è nell'immaginario collettivo. Sono state solo delle tentativi di propaganda che hanno cambiato la mentalità generale. Insomma, in realtà è facile pensare proprio a quello che finora ho detto e lo ripeto, riassumento. Articolo 2. Il cittadino agisce come singolo e come parte della comunità. Quindi agiamo come parte della comunità. Siamo proprietari dei beni comuni, siamo proprietari pubblici dei beni comuni, perché la proprietà pubblica è la proprietà pubblica del popolo. Quindi abbiamo un diritto di proprietà pubblica. Abbiamo un diritto di partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Abbiamo che l'articolo 118, quarto com, che ha scritto Bassanini e non pensavo affatto che potesse essere letto da noi in questo modo, dice che i cittadini singoli e associati possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà. Secondo me va rivisto, va riletto l'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale ogni cittadino ha il diritto di difendere i propri diritti e i propri interessi regiti. Nei propri diritti certamente non ci stanno solo i diritti individuali come singolo, ma anche quelli e a maggior ragione quelli che aspettano come parte della comunità. È l'axio popularis romana, l'interdictum populare. Ecco perché dico che tanto mi è servito studiare il diritto romano per poter comprendere la Costituzione e se noi facciamo variare questi diritti forse è tardi, forse la gente è addormentata, forse non è in grado di seguire questi discorsi, ma santo cielo, non sono concetti difficili. E se si legge la Costituzione non pensando ad altro, ma pensando alla profondità delle idee che sono scritte e si comincia a pensare che noi siamo vittima di una formula magica che ci toglie il pensiero, che impedisce, che non ci fa dire la verità, che impedisce la nostra libertà, perché tutto avviene attraverso una propaganda pagata dalle multinazionali e anche dalla finanza, dove passano solo le notizie che servono a loro. È molto difficile. L'ultimo libro che tu mi hai citato è la rivoluzione costituzionale alla riconquista della proprietà pubblica. Era proprio in questo senso, riconquistare tutti quei beni che sono caduti in mano privata, straniera a più delle volte. Come posso dire, io non voglio offendere nessuno, è l'obbligo giuridico, deontologico, di rispettare tutti, quindi rispettare che per errore le nostre istituzioni, a mio avviso, sommesso. E quindi non assolutamente da prendere come verbo. Insomma, sono stati sottratti. In realtà c'è un articolo del Codice Civile che possiamo far valere, l'articolo 1418. Tutti questi atti di svendite, di privatizzazione, di liberalizzazione, tutto quanto è stato fatto seguito a quelle parole di Milton Friedman, sono tutti atti legislativi nulli. Nulli, assolutamente nulli. E quindi noi possiamo chiedere la dichiarazione nullità e chiedere che questi atti siano inviati alla Corte Costituzionale per il loro annullamento. non so se mi sono tenuto nei termini. Grazie mille, Paolo. Ricchissima lezione. Abbiamo imparato un sacco di cose e ci siamo, ahimè, riconosciuti nella storia, nelle parole che raccontano la vicenda finale della storia italiana amaramente con te. Io adesso a questo punto darei la parola a chi vuole fare delle domande, degli interventi brevi e non non possiamo diciamo allungare molti i tempi per le ragioni tecniche che vi dicevo all'inizio. Chi vuole, chi vuole, chi vuole intervenire? Io. Grazie Piero. Pino. Sì, complimenti alla bellissima lezione che è stata fatta, a lungo elenco doloroso di beni pubblici o collettivi. Ho detto una piccolissima parte, ho detto per esempio. Sognerebbe aggiungere il sistema creditizio italiano, le tre banche. No, è un'infinità, non finimo mai. Io però ho solo una questione teorica, di principio che volevo una risposta, è questa. Quando parliamo di è compatibile il bene pubblico domaniale con una gestione, con la gestione della comunità locale o in modo implicito il fatto che il bene sia pubblico domaniale implica una gestione che evade i limiti territoriali. Bravo Pino, mi fa molto piacere che mi abbia fatto questa domanda perché in questa domanda c'è il retaggio della cultura ante costituzione, cioè talmente è ridicata in tutti noi e anche nei giuristi. Il fatto che esista che lo Stato sia la persona giudica, lo Stato è un organo, lo Stato persona giurista, la pubblica amministrazione, diciamo così, lo Stato pubblica amministrazione, è un organo dello Stato comunità, sta al nostro servizio e noi abbiamo il diritto di partecipare, di partecipare. De Magistris lo ha fatto, De Magistris mi ha fatto presiedere una commissione da lui nominata per il debito pubblico e l'hanno due anni precedenti, tre anni precedenti, un'altra commissione che esiste anche, proprio dei beni comuni. Quindi collaborare con l'amministrazione è un diritto dovere e che noi abbiamo una tradizione che è stata poi oscurata in modo spaventoso da questa propaganda neoliberista, dal mantra del pensiero unico dominante, dove non si possono dire delle parole perché si è subito tacciati. Tu parli di ideologia, ideologia è una cosa molto seria, è la narrazione delle idee, insomma perché non bisogna avere idee, si hanno fatti stupidire tutti quanti, ma noi Costituzione alla mano, con la massima penso di aver parlato in modo molto corretto nei confronti di tutti, insomma non credo di aver offeso nessuno, ho solo narrato dei fatti, i fatti vanno narrati, anzi a proposito della querela delle offese nei confronti dei pubblici dipendenti, i quali hanno l'obbligo di assolvere le loro funzioni con discipline d'onore, articolo 54 della Costituzione, non lo dobbiamo ricordare, a questo proposito c'è l'eccepsio veritatis, cioè uno può dire quello che hanno fatto di male e non si offende perché loro sono i nostri amministratori, sono al nostro servizio, li abbiamo eletti, devono rendere conto a noi, la sovranità a chi spetta? Ai deputati o spetta al popolo? Spetta al popolo e quindi non ci facciamo, non ci carichiamo di pensieri medievali quando esisteva solo l'autorità e noi eravamo oh c'è stata la rivoluzione francese, c'è stata, ecco posso dirlo con orgoglio perché io sono nato a Napoli, c'è stata la rivoluzione napoletana del 99, la prima e grande rivoluzione fatta in Italia subito dopo la rivoluzione francese dove pagarono con la vita migliaia di persone, di altissimo lignaggio, effettivamente la cultura è stata sempre meridionale, insomma, tanto per citare qualcuno, Giovan Battista Vico, mio conterraneo, quando passo a Natale a comprare i pastori, io arrivo sempre all'angolo di via San Gregorio Armeno, a via dei tribunali, dove c'è ancora l'apitazione mezzo di locata di Giovan Battista Vico, siamo, l'intelligenza italiana è grande e quindi io dico non ci facciamo, possiamo benissimo, se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va e noi agiamo. Io dirigo un' associazione, ho ritenuto doverosa crearla, che si chiama Attuare la Costituzione. Stiamo preparando, c'è un validissimo mio collega, vice presidente, avvocato, che si dà anima e corpo, adesso stiamo preparando un ricorso giurisdizionale davanti al tribunale di Brindisi per la distruzione degli ulivi nel Salento. Abbiamo fatto anche altri ricorsi, vedremo come va. Comunque posso dire che tante volte facendo anche solo una diffida, firmata magari da 300 persone, una diffida nella quale si dice guarda che se non fai questo io ti cito in tribunale. Abbiamo fatto una diffida per gli alberi di Roma, per gli alberi di Villa Panfili, perché non venivano curati da quest'ultima malattia che fa seccare i pini e grazie a Dio lo hanno eseguito. Noi dobbiamo agire in giudizio, il nostro potere. Perché ce l'hanno tanto con i giudici? Perché questi sono esponenti della finanza e delle multinazionali. E l'unica forza che ha il cittadino, come si dice, ci sarà un giudice a Berlino, l'unica forza che ha il cittadino è quella di ricorrere, come diceva Calamandrei, alla coscienza del giudice. E se il giudice non ha coscienza è tutto perso. Bisogna ricorrere alla coscienza, avere la fortuna di ricorrere a un giudice di coscienza. Ce ne sono dei giudici di coscienza. E poi si riprova. Poi si deve essere tenaci. Io credo che possiamo collaborare. Non so, quando ero più giovane c'erano varie iniziative. C'è stato un periodo molto bello nella storia d'Italia. Intorno al 68, quando si cominciò a muovere un po' le cose. Poi si è fatto facere tutto. Dice Zagelvresky, siamo nel periodo della cosiddetta normalizzazione. Cioè a dire i potenti, cioè quelli che hanno più soldi, hanno fatto in modo di avere sempre più soldi. Si sono presi con le privatizzazioni tutti i soldi nostri, proprietà nostra. Ce le devono restituire. In buona maniera. Ma ce le devono restituire. Tante volte andiamo dai giudici finché non ce restituiscono la Telecom, non ce restituiscono l'Iri, non ce restituiscono le grandi imprese. Non potevano. Erano bene. Come si fa a privatizzare, a mettere sul mercato un bene che appartiene in proprietà pubblica? E questi signori non hanno letto la Costituzione. Pensano che la Costituzione si può cambiare con delle leggi ordinarie. Lo sanno bene che per cambiare la Costituzione ci vuole una legge costituzionale. E sanno anche bene, e se non lo sanno, glielo diciamo a altavoce, che alcune leggi della Costituzione, alcune norme della Costituzione, e cioè i principi fondamentali e i diritti fondamentali, sono intoccabili e prevalgono sui trattati, prevalgono sul trattato di Mastic. Noi potremmo agire contro Mastic, contro la Commissione europea, perché noi, come dire, anche il malvezzo di molti giudici di mandare le nostre cose a decidere, a decidere, a far decidere la Corte di giustizia europea. Ma sui principi fondamentali non c'è Europa che tenga. La Germania lo sa bene. La Germania non firma un trattato se prima non ha avuto il parere della Corte Costituzionale. E la Francia fa altrettanto. La Francia nazionalizza. Perché noi invece di non nazionalizzare svendiamo? Perché tutti i soldi che abbiamo fatti non li adoperiamo per investire nel pubblico e guadagnare con il pubblico? Perché abbiamo distrutto l'Italia quando i voli sono in crescita? Perché abbiamo creato quella minuscola ITA e l'abbiamo venduta a Lufthansa? Perché non abbiamo più un'industria di automobili? Perché la Fiat è diventata francese? Che cos'è questo mercato unico europeo dove noi restiamo senza niente e l'Olanda, la Francia, la Germania si arrisciscano a spese nostre? Perché in Italia ci sono alimentazione in mano francese? Perché abbiamo fatto le liberalizzazioni e qui è stato Bersani? Perché abbiamo perso l'ENI e qui è stato Giuliano Amato? Perché abbiamo perso... Oh, se noi non avessimo avuto il decreto Bersani per l'elettricità e il decreto Letta per il gas, l'avremmo fatta a Franca con l'aumento delle bollette. Ma noi avevamo l'ENI. L'ENI ha guadagnato, mi pare, 36 miliardi nell'ultimo anno. Questi 36 miliardi fanno parte dell'ENI e non fanno parte dell'Italia. Perché l'ENI è una SPA, non è più un ente pubblico economico nostro. Siamo conto che noi abbiamo dato agli stranieri un colosso dell'economia internazionale mondiale. L'ILVA. Perché è stata venduta l'ILVA? Perché è stata venduta la Magna di Marelli per 8 milioni? La Magna di Marelli fa i microchips per le macchine elettriche. È proprio quella andiamo a vendere? Perché abbiamo rimesso tutto al mercato. Il mercato non dirige niente. Noi avevamo la possibilità, il governo, di dirigere. Adesso la Meloni gira di qua, gira di là, va in Algeria, va in Polonia, va girando. Ma noi non abbiamo nulla. Che mettiamo in campo? I privati. I privati sono stati avvantaggiati con il quantità di vising. Che hanno fatto? Hanno comprato i prodotti finanziari. Non è che hanno investito, hanno dato posti di lavoro. Ci dobbiamo svegliare. Dobbiamo riprenderci il nostro patrimonio, il grande patrimonio industriale che ci è stato torto. Per non parlare poi di quello che è successo sul territorio, in urbanistica. Perché Renzi ha distrutto la guardia forestale dello Stato? Perché la ministra Madia del governo Renzi ha posto la regola che se l'autorizzazione paesaggistica non viene data in 30 giorni? Si può costruire l'autorizzazione? Perché noi non eseggiamo l'autorizzazione? Possiamo, possiamo senz'altro ricorrere al giudice. E credo che l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 42 e l'articolo 118, ultimo gomma, sono palesemente schiacciatamente dalla nostra parte. È solo che nessuno può mani ad esse, come dice Dante. Le leggi sono, ma chi può mani ad esse? Questi articoli ci sono, sono della Costituzione, prevalgono sulle leggi ordinarie. Non c'è un partito o c'è il partito che si prende questa briga. Bisogna aver coraggio perché dobbiamo saper fare delle cose. Abbiamo talmente paura. Secondo me è un partito che fa voto e un partito che sia controcorrente. È un partito che sia contro sistema. Andando con questo sistema finiamo tutti come i topolini col flauto magico. Finiamo tutti a morte affogati. Va bene, credo di aver risposto a Pino. È scomparso. No, 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 so. No, è qui, è qui. Ha ben, è andato ben oltre la risposta, grazie. No, ma se non mi frenate, siccome studio questo da tanti anni e siccome io sono molto napoletano e molto più italiano perché ebbe l'avventura quando ero in prima, seconda e terza media di studiare a fondo da ragazzino, dieci, undici, dodici anni, di studiare a fondo il risorgimento perché ebbe un professore padre Barnabita, piemontese di Torino, innamorato del risorgimento. Quindi a dodici anni avevo una grande cultura sul risorgimento e io credo che il risorgimento è stata una pagina estremamente gloriosa dell'Italia. Stiamo calpestando i nostri martiri, anche quelli della liberazione. Stiamo calpestando. Musica, musica. Musica, musica. Scusate Paolo, noi staremmo ad ascoltarti tutta la sera. Eh no, io sono a vostra disposizione. Per 9.30 dobbiamo chiudere. Sì. Allora, se vogliamo che, c'è qualcuno che vuole intervenire. Sì, volevo. Pregherei. Anch'io mi ero, avrei voluto intervenire. Un attimo, per favore, un attimo. Siccome, siccome, diciamo, ci sono alcuni che vogliono intervenire. Pregherei Paolo, che ha detto tutto quello che c'era da dire, di fornire risposte breve perché. Sì, sì, no, ma io credevo che non ci fossero altri interventi. No, tu hai suscitato un tale entusiasmo. Io qui ho alcune giatte che mi arriva. E allora facciamo uno sforzo e restiamo. Facciamo uno sforzo e restiamo. Io sarò breve nelle risposte. Mi interessa. Prego. Non mi sono, non mi sono iscritta nella chat, sono Luisa e la battaglia. Cara Luisella, ciao. Caro Paolo, ti ringrazio moltissimo, naturalmente. volevo chiederti a proposito della Costituzione, una tua riflessione sull'articolo 9 e le integrazioni che secondo me sono molto importanti, quelle relative alla tutela della biodiversità, degli animali. Io credo di vedere una linea di continuità con le lotte degli anni settanta, i diritti di terza generazione, il diritto all'ambiente. una linea di continuità nel senso che questa integrazione dovrebbe portare ad una rinnovata presa di coscienza che l'ambiente è veramente un bene preziosissimo da tutelare nell'interesse delle future generazioni, che era poi uno dei temi che erano stati sollevati, ti ricorderai, all'Earth Summit di Rio de Janeiro in cui ho avuto il piacere di incontrarti, abbiamo cominciato a collaborare. Ecco, volevo chiederti, visto che tu ti sei dichiarato, innamorato della Costituzione, se ritieni che l'articolo 9 con questa integrazione possa essere efficace anche per quanto riguarda i beni comuni? Ma secondo me è essenziale questa modifica che hanno fatto all'articolo 9. Già l'articolo 9 è stato il nostro punto di forza per la costruzione della tutela dell'ambiente, il 9 e il 32, si parte da lontano, ma adesso aver messo tra i principi fondamentali, questo sfugge alla maggior parte delle persone, aver messo tra i principi fondamentali la biodiversità, l'ecosistema, la tutela, la forma di tutela per gli animali, significa aver aperto la nostra Costituzione che era strettamente antropocentrica, in una prospettiva biocentrica. Io sono stato felicissimo di questa cosa, perché mettendo il biocentrismo nei principi, perché quelli che sono immodificabili sono i principi, bisogna solo cambiare la Costituzione per dire che i principi non valgono. Quindi noi abbiamo una forza immensa, ecco perché vorrei che tante persone si schierassero in piazza a chiedere l'attuazione dei beni comuni, intendendo per beni comuni, non i beni privati o quelle cose un po' mal scritte, eccetera, intendo per beni comuni, beni comuni demaniali, cioè beni comuni che appartengono al popolo e sono demaniali e sono quindi inalenabili, inusucapibili, inespropriabili e aggiungo incomprimibili, perché i beni in proprietà collettiva demaniale non possono neppure essere dati in concessione, in gestione, perché significa svuotarli di contenuto. È come dire, il privato che dà a un altro lusufrutto e mantiene la nuda proprietà, ma che ha il popolo, diciamo diciamo in Costituzione che ha la proprietà pubblica di tutto e poi la svuotiamo e la diamo in concessione, ma che prendiamo in giro il popolo. Quindi un'altra conseguenza dell'attuazione della Costituzione è anche il cambiamento, cioè la illegittimità costituzionale delle concessioni, il che è importantissimo ai fini della pagnazione. Lo stesso capo dello Stato l'altro giorno ha detto che bisogna provvedere a mettere a gara le nostre spiagge. Niente, le nostre spiagge sono nostre, sono proprietà pubblica del popolo e le possono gestire unicamente i comuni, i quali non possono fare concessioni, possono fare gare di appalto, mantenendo quindi il guadagno e l'organizzazione, per singoli servizi o singole opere, cioè fare dei contratti volta per volta. L'unica forma di soluzione possibile è quella della spiaggia attrezzata, come ce n'è qualcuno a Roma e qualcuno in Liguria. La spiaggia attrezzata che resta del popolo, che non si paga il biglietto per entrare e che comunque se uno vuole qualche servizio, se lo vuole lo paga, se non lo vuole non lo paga. Quindi vedi com'è importante la Costituzione, anche sotto il profilo spiccio, l'è venuto così. Mi fermo perché voglio dare spazio a tutti. Grazie Paolo. Io reprimo il mio desiderio di intervenire perché avrei da dire moltissime cose, ma vista l'avvicinanza di tempo, do la parola a Ciro che me l'ha chiesta. Grazie Paolo. Poi a qualche un altro, perché alle 7.30 devo chiudere e dare, diciamo, la comunicazione della prossima lezione. Ti chiedo scusa davvero tanto per questa restrizione, perché la serata che tu hai, diciamo, condotto meriterebbe tanta discussione. Allora, professore, volevo chiedere una cosa molto dato per scontato che senza sovranità monetaria non esiste la politica. La moneta fa parte del demanio costituzionale? Certamente, certamente, certamente. Il trattato di Mastic è nullo, proprio per questo. Comunque a questo punto, siccome la moneta sono banconote, le mette una banca privata, sono banconote, questo non esclude la possibilità che la nostra banca centrale emette una moneta complementare, un biglietto di Stato. Io sostengo che tutte quelle altre cose, moneta fiscale, non funzionano perché presuppongono altri avvenimenti che poi non si verificano. Quindi bisogna andare sul sodo. Noi abbiamo sbagliato e poi possiamo ritirarci dall'euro. Io resterei in Europa perché è molto comodo avere una veredazia alle esportazioni all'impostazione. Quindi è stato un errore proprio l'euro. Per me bisogna ritirarsi. E ci sono due grandi autori, Stiglitz, premio nobele per l'economia, il figlio del grande Galbraith, anche lui molto bravo, che hanno scritto che l'Italia potrebbe benissimo riprendersi dalla propria moneta e nessuno direbbe niente. Invece appena ho detto questa cosa, eh ma non ce lo fanno fare. Io non lo so che che cosa ci ha preso questo senso di sottomissione, di servaggio. Sono perfettamente d'accordo con lei, professore. Assolutamente. Anche perché sono d'accordo con te, anche perché senza sovranità monetaria la politica è nulla. Non esiste. Non esiste. Esattamente. Ma è stato tolto tutto perché quando tu hai dato tutti i beni ai privati, lo Stato può avere un suo patrimonio. Se il patrimonio è tutto ai privati, come governi più? Come governi? Dici ai privati volete fare questo? E quelli dicono no, io me ne vado. Berlusconi dov'è che paga le tasse? Certo, in Olanda. In Olanda. La Fiat dove se n'è andata? In Olanda. No, se paga Francia. C'era Francia e Olanda. E poi in America? Vabbè, lasciamo perdere tutto. È terribile. Eh sì, sì, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Se noi riuscissimo a fare gruppo, a mettersi tutti insieme, noi potremmo arrivare a fare delle cose molto importanti. Sono molto d'accordo. Dobbiamo aprire una stagione di referendum. Esatto, esatto. La sanità, la sanità. La sanità è figura. Esatto. L'istruzione, l'istruzione. Adesso le autonomie differenziate. Ma dove siamo arrivati? Deve ritornare tutto in campo al governo centrale, assolutamente. Eh certo. Assolutamente. Sono d'accordissimo. Grazie. Allora, io ringrazio davvero di cuore Paolo Maddalena per questa splendida lezione e anche per i commenti e alle domande che gli sono state rivolte. Io spero che organizzeremo qualche altra cosa con Paolo anche più di stesso su questi temi. Annuncio la lezione della prossima settimana che è diciamo, cioè la prossima settimana, già di questa settimana perché questa volta la lezione è stata tenuta di martedì e la prossima sarà giovedì. Eh quindi è molto ravvicinata e quindi ci tengo a ricordare eh che ehm ci sarà appunto la la lezione di Marianna Filandri sul tema lavoro, povertà e rinchezza privata. E siamo in asse, quello che ho detto è proprio un tema che a Paolo eh interesserà sicuramente perché naturalmente interseca le sue le sue eh problematiche, le problematiche che abbiamo sentito questa sera. Grazie Paolo, grazie a tutti. Grazie, grazie carissimo. Piero, grazie. E ricordiamoci che siamo Pietro e Paolo eh. Con grande piacere. Il ventinove giugno festeggiamo insieme. Insieme, bellissimo, grazie. Saluto tutti con molto piacere, grazie infinite. Grazie Paolo. E crediate nella Costituzione, oltre che nel Vangelo, se mi è concesso. Assolutamente sì. Siamo siamo tutti, siamo tutti per Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.